2.000 secondi, non finiscono più bro, porcaccia la miseriaccia, 2.000 secondi, bannatemi Olmus, io non premo più neanche i tasti perché non perdo tempo, abbonandosi, il prossimo abbonato può essere tranquillamente verso VIP, fatto? Ok, perfetto, hai fatto l'accesso Nabba, bella Prince, benvenuto, buongiorno. Ok, allora Ermione, adesso se arrivai nel link che ti ho mandato, ragazzi, però quando ricco di bannare Olmus, porcaccia la miseriaccia, vabbè, niente, lo banno io, non volevo neanche per fare sto sforzo di cliccare sul suo nome, la Siknam, la Iuntina. Oddio mio. Password verde 12? Già, Sikna. Vai qui e... Ermione, inserisci i... Fai, clicca di nuovo questo link e ti spunta collega Twitch, ok? Fai questo link e automaticamente ti può fare abbonare gratis, va bene? Start, yes up. Bruno Stars è sospeso per 2000 secondi, nooo. Posso non irsi tutti? Ma terrible, ma tu già venivi nelle mie live, perché stai facendo le stesse domande? Parapapapa sta nota, bella Kangoo, ciao Pippo, grazie mille per il follow, com'è stata amici? Na 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 na, porti. Ciao Cristian, quando posso mi abbono da te? Beh, assolutamente, conviene fare l'abbonamento solamente qui, anche perché il prossimo abbonato ha la mia richiesta. Raid con 60 persone e può giocare con me quando vuole. Se vinco cosa succede? E tantissimi complimenti, Centurione. Cristian, password, la password è... Rete... No, verde 12. Fatto? No, Ermione, non l'hai fatto. Password verde 12. Eccolo, addirittura... Egy Dark, benvenuto, benvenuto Dark. Te dico Darkone, ti hanno superato, eh? Te volevi prendere il top, Dark? Ti volevi prendere il top per un abbonamento? Il primo e-boost, bella Cristian Vassolino. Ciao Cree. Il primo e-boost per un abbonamento, GDark. Aiaiaiaia, ma come se va? Come se va? Gio, mi smuti. Il codice d'invio non me lo mantano, con le codice d'invio. Però voglio fare il provino. Addirittura, il provino solo se ti abboni, Kangoo. Bentornato, bentornato, Alberone. Quando vuoi, Albero, abbonati. Raga, Gio ci ha mutato. Entra nel privilio degli abbonati. Non ci credo. Ok, ti smuto. Certo, Moment, come no. Assolutamente. Mi senti? Sì. Sì, Gio, io ti sento. Ottimo, ottimo. Era mezz'ora che tentavo di chiederti una cosa. Dimmi, dimmi. Ti volevo chiedere. En, ma quando... Quando ti viene il tasto abbonati su Twitch? Ok. Devi essere affiliato per averlo? Se vuoi... Bella, Mini Power. Grazie per il follow. Ciao Cagnolicchio. Sì, ovviamente, chi si abbonata a me arriva subito all'affiliato su Twitch. Cioè, in due giorni. Eh, Gio, io non sono ancora affiliato. Eppure ho 300 follower, quasi. Venite, ragazzi. Bella, Alex. No, mio Dio, ce n'ho già uno solo. No, mi trovi è tanto. È easy, bro. Conta che chi è abbonato viene direttamente raidato. Bella, Alex DP. È un piacere. Oh, mio Dio. Ma in tre. Quindi, bentornato. No, no, ma sei già morto, Moment. A te, me ne vengono tre sopra. Aspetta, arrivo. Ciao, Noah. Già che sono un hub, però... Certo che puoi giocare, G-Dark. Non me lo chiedere neanche. Non so se l'ho fatto una prima. Ma quando mi abbonerò il premine, che cosa consiste? Devi giocare bene. Noi guardiamo la sostanza del player, Nico. Ogni volta che gioco con te... Io l'ho fatto, no? Non l'hai fatto, perché se no... Io ogni volta che gioco... Avevi a quest'ora la coroncina, Hermione. Quindi non l'hai fatto. Ok? Dimmi. Ogni volta che gioco con te, la sera alla live, non so perché, faccio sempre due o tre follower. A caso. Veramente? Sì. Mandami lo screen, Hermione. Così vedo come posso aiutarti. Certo, Prizz, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok, regà? Occhio. Se riesci prendimi la scheda. Se riesci. Perfetto. Vai. Oh mio Dio. Eh, gente qua, niente bro, impossibile, è pazzesco, veramente. Eh, ti atterrano sempre tutti, subito. Niente bro, pazzesco. Cioè, per atterrare o... Cioè, per atterrare o... Cioè, dici dove andare o escurio lo schermo? Pazzesco. 300. 300. Sì. No, 200. John Field. Eh, chi? 200, AlexDP06 bro. Che ti sta dicendo, Smoky? Chi è che ti sta offendendo? Porca c'è la miseriaccia. Mandami lo screen, Nabba, della schermata di Amazon Prime. Fino a che ora fai live? Dipende, Nicolo. Ancora non per tantissimo, perché oggi devo registrare prima con Mattiz, ragazzi, quindi... Poi devo staccare. Ogni volta che vengo da te è sempre Mattiz. Esatto, esatto. Mi sto per abbonare. Terrible, l'ultima volta che l'hai detto non ti ho più visto per due mesi. Io non ti credo, mi dispiace. Jura. Parabam, 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 parabam. Anche perché è rimasto l'ultimo posto per gli abbonati, Terrible. Il prossimo abbonato ha la mia richiesta, entra nel team, viene sponsorizzato e raidato ogni giorno. Quindi vi converrebbe abbonarvi immediatamente premendo il tasto abbonati e facendo l'abbonamento di livello 1. Tanto costa super poco. Vediamo, Frizz, li faccio sapere. Bella WGFFane. Come stai? Purtroppo non posso, alberone. Ok, non mi fa mettere il codice d'invio, non saprei. Pochissimo, Feschino. Tasto abbonati e fai abbonamento livello 1, Cantuna. No, io. Basta guardare, puoi guardare tu stesso. Il Twitch Prime mi scade tra due giorni, uffa, tranquillo Luca. Pensa un po' che tra due giorni sarà il tuo giorno fortunato. Io, ma quanto dura un Twitch Prime? Come? Quanto dura un abbonamento a Twitch Prime? Un abbonamento a Twitch Prime? Beh, per quanto ti vuoi abbonare al canale? Non cambia nulla. Cioè, puoi abbonarti per un mese come per cinque mesi. Ah, quindi mi va avanti senza pagare? Devi rinnovare, però non paghi, certo. Ah, ok. No, perché sono scambi. Bella Francipro e Belenepro. Grazie mille e benvenuti, ragazzi. Bella Marco, Noah. Ciao, ciao. C'è? Ah, sì, greve. Perché che ti sta dicendo, Smoky? Cosa vuole, greve? Aspetta, aspetta un secondo. Che c'è? Sei pure un canale YouTube. Ovvio, Nicolò, vami a seguire, bello. Guarda qui. Punto esclamativo YouTube. Dimmi. Io devo andare. Ok, Frizz. Ciao, Matthew. Ci vediamo. Ciao. Grazie mille per essere state live. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ogni volta gioca con Gio. Ragazzi, spero che questa baby live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo nella prossima live. Ciao. Per favore, fatemi giocare con Gio. Noi ci vediamo la prossima live.